Massima allerta a Washington in vista della cerimonia di insediamento di Joe Biden. Imponente il dispiegamento di forze sul terreno, oltre alla polizia, 25.000 militari della Guardia Nazionale. A testimoniare il livello di tensione raggiunto, le preoccupazioni di alcuni funzionari della difesa che, stando ai media americani, avrebbero espresso il timore di un attacco portato da uno dei membri delle forze di sicurezza. Timore che ha spinto l'FBI ad effettuare dei controlli su tutti i membri della Guardia Nazionale dispiegati. Tutto pur di non rivedere le scene dell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio. Gli Stati Uniti non possono permettere che questo accada di nuovo. È la più grande minaccia alla sicurezza interna che abbiamo mai avuto dai tempi della guerra civile, dice questa residente di Washington. Rafforzata anche la sicurezza in tutti i 50 stati, in Michigan alcune decine di persone hanno protestato fuori dal Campidoglio, a Lansing, capitale dello Stato. Tra di loro alcuni membri armati di un gruppo antigovernativo e vari sostenitori di Donald Trump. Stesse scene in Ohio. Anche qui, diversi gruppi armati si sono radunati per protestare davanti agli edifici governativi. Non sono d'accordo con quello che è successo al Campidoglio, ma sono assolutamente favorevole a far sì che il governo sappia per chi lavora. Stando alla CNN, nelle ultime ore del suo mandato Donald Trump potrebbe concedere la grazia e commutare la pena a circa 100 persone, tra cui vecchi amici e alleati come Steve Bannon e Rudolf Giuliani.